Siamo con Dario Porta dell'Odb Castelletto A, oggi una sconfitta che brucia parecchio perché era un derby, perché era uno scontro diretto e perché eravate in vantaggio fino a 5 minuti dalla fine, anzi fino a 3 minuti dalla fine per 2 a 1 avete preso due reti negli ultimi minuti di gioco. Cosa altro devo aggiungere? Hai detto tutto tu, brucia, stavamo vincendo, il 2 a 2 è stato anche fortuito perché era un cross in mezzo che è finita dentro in maniera beffarda, diciamo che solitamente non parlo dell'arbitraggio ma stavolta non posso che dire che è stato uno dei meno coerenti che ho visto in questo campionato, in ogni caso merita loro, all'andata si è riuscita a strappare la vittoria in casa loro, al ritorno l'hanno vinta loro, adesso dobbiamo riprenderci, ci sono ancora tanti punti da mettere in cascina per provare a salvarci e uscire dalla zona di retrocessione, vediamo di mettercela tutta. Peccato perché sarebbero potuti essere tre punti importanti e soprattutto sarebbe stata l'occasione per riscattarvi dopo la sconfitta anche di settimana scorsa, pesante seppur arrivata contro una squadra forte come il settimo calcio. Sì, pesante nel risultato e oggi ci ritenevamo a riprenderci subito, era importante anche la scorsa perché comunque era una squadra di metà classifica, sono stati bravi, è una bella squadra, niente, ci riprenderemo dalla prossima e ripeto, punti in cascina sono da mettere, la salvezza è lì ancora, quindi il campionato è l'unico. Sì, quest'anno nell'OpenA parecchia fatica, poca continuità nei risultati, ti chiedo se c'è qualche partita che avete ancora su gruppone, avete qualche rammarico? In particolare mi ricordo tre partite che sono fise pari alla fine in cui vincevamo in tutte e tre, siamo stati recuperati nell'arco degli ultimi tre minuti, un po' come è successo stasera, una vincevamo mi sembra di tre o di due, siamo andati a finire una 4-4. Quelle partite là sono state sul gioco anche giocate medie dell'avversario, credo, alla fine della fiera mancano i punti e niente, non sta girando bene perché il gioco non è manco così carente, purtroppo la fortuna di vizionare. Manca dei risultati. Esatto. Va bene, ti faccio l'in bocca al lupo e ti ringrazio, ciao. Grazie a te, ciao.